Il palco dell'Eyston Cornei è per me un grande errore e credo che sia, da un certo punto di vista, anche un modo, se vogliamo, ironico e leggero per sconfessare questo tipo di presura di malattia. Questa e il suo lavoro è di essere un po' fuori, soprattutto in Italia, ma io sono sicuramente groundissima, anche la svolta di un giudato. E' vero che ho un gesto che ero fatto, io non ho sposto una virtù, giocavo, dicendo le risposte nocemente, ma è vero perché ho risposto sull'onda sicuramente dell'entusiasmo, della gioia e soprattutto anche nel 9, perché mi ha fatto un grande piacere pensare insomma a sua sorella per un artista più forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.